In un mondo sempre più interconnesso traduttori e interpreti svolgono una professione essenziale ma allo stesso tempo resa spesso difficile da precarietà e basse retribuzioni. Sentiamo Luciana Parisi. Una casa silenziosa, una biblioteca di 25.000 volumi. Un traduttore letterario non smette mai di pensare alle parole dei suoi autori da trasferire nella nostra lingua. Io credo che il lavoro del traduttore sia totalizzante, nel senso che anche quando poi magari ti alzi e vai in cucina, accendi la radio, ascolti una canzone, senti una frase che ti fa accendere una lampadina e dici ah ecco cosa significa questa cosa qua. Giovanna Granato lavora sui testi di David Foster Wallace, Martin Emis e tanti altri per le grandi case editrici Mondadori e Inaudi Bompiani. L'Italia è il paese che traduce di più in assoluto. La condizione economica di un traduttore è pessima perché non ci sono tutele sindacali di nessun tipo è un lavoro che ha pochissimi riconoscimenti, anche economici. Se un traduttore è di fatto un letterato rigoroso che lavora in una dimensione raccolta e riservata un interprete invece è sempre circondato da tante persone diverse e si muove negli ambiti più disparati come ci racconta una professionista che negli anni abbiamo imparato a conoscere accanto a capi di Stato, attori e musicisti. Cosa c'è di insostituibile in una persona che interpreta? La cultura forse intesa come un mondo. Fare un buon servizio di interpretazione richiede anche poter mettere chi ascolta nella condizione di comprendere anche al di là delle parole anche ciò che c'è dietro. Cosa c'è dietro?